Everywhere è nata come un gruppo di amici, appassionati in tecnologia, di innovazione, sempre proiettati nel futuro, tanto è vero che ci siamo incontrati a Singapore nell'ambito di una fiera internazionale dell'innovazione e lì c'è venuta l'idea di creare Everywhere. Cos'è Everywhere? Posso dirlo in poche parole raccontando cosa veniamo qui a presentare in SMAU. Siamo venuti qui a presentare l'esperienza e la storia di successo, posso dire, che abbiamo costruito insieme a un nostro partner, il gruppo San Donato, nell'ambito dell'ospedale Istituto Galeazzi. Vogliamo dare un aiuto ai pazienti che entrano in un ospedale e si sentono persi perché sono ovviamente in difficoltà, l'ambiente ostile, molto grande, non sanno dove muoversi e quindi tramite la nostra applicazione e con la collaborazione dell'ospedale cerchiamo di dare un supporto, una cura, al di là della cura specifica medica, una cura a come potersi muovere nell'ospedale, come potersi fruire dei loro servizi e sentirsi in qualche misura coccolati. Everywhere ha sviluppato una piattaforma, come dicevo, che si occupa di tecnologie di prossimità, quindi forniamo dei servizi agli utenti o alle aziende nel luogo e nel momento in cui effettivamente l'informazione serve. Quindi tra le altre cose facciamo tracciamento di persone e di cose all'interno di spazi chiusi, facciamo indoor navigation, indoor positioning, quindi riconosciamo la posizione degli utenti all'interno degli spazi fisici, che si parli di supermercati, di ospedali, di stazioni, di aeroporti o anche in ambienti industriali e quindi riusciamo a derogare un'esperienza utente migliore e a dare informazioni contestualizzate rispetto alla posizione dell'utente. Grazie